Questa è una delle sfide quotidiane dell'agricoltura, le infestanti. Le culture infestanti sono sempre state fin dall'etichità una delle principali problematiche in agricoltura, ma l'utilizzo dei tradizionali sistemi di difesa non sono più una soluzione concepibile. Esiste un'alternativa sostenibile e naturale? Io sono Mattia Alpi e la mia ricerca si basa sulla valutazione di prodotti di origine naturale in alternativa ai tradizionali prodotti chimici per la gestione della flora infestante. Le infestanti sono tra le principali problematiche in agricoltura, causando riduzione delle rese e aumento dei costi di gestione. Per decenni il tradizionale utilizzo dei sistemi di gestione chimica sono stati la soluzione principale, ma hanno portato negli anni a notevoli problematiche di interesse ambientale e sanitario. Le nuove normative, come il New Green Deal, spingono sempre di più verso nuove alternative sostenibili e più naturali rispetto ai tradizionali sistemi di gestione. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce il mio progetto di ricerca, nella valutazione di prodotti di origine naturale, appunto i biorbicidi. I biorbicidi sono appunto prodotti di origine naturale, che vengono utilizzati in alternativa ai prodotti tradizionali di sintesi chimica. Sono appunto estratti vegetali, oli essenziali, acidi organici e derivati dal metabolismo dei microrganismi. Uno dei principali vantaggi dei biorbicidi è sicuramente la bassa persistenza in suolo e acqua, riducendo i fenomeni di accumulo e persistenza all'interno di questi sistemi. Inoltre, diciamo, il meccanismo d'azione dei biorbicidi, molto più generico e non selettivo, riduce di molto l'insorgenza di fenomeni di resistenza nelle culture infestanti. Tuttavia, l'efficacia di questi composti dipende da molti fattori, come la specie target, lo stadio fenologico e le condizioni ambientali. Inoltre, la bassa selettività riduce di molto la finestra di applicazione di questi prodotti in ambiente agricolo. Nonostante ciò, la frontiera dei biorbicidi rimane un'alternativa di interesse, soprattutto con l'avanzare delle nuove tecnologie come l'agricoltura di precisione, che riuscirebbe ad aumentare di molto la selettività di questi prodotti, riducendo in questa maniera i costi di gestione e aumentando la competizione con i prodotti tradizionali per la gestione della flora infestante. Inoltre, tutti questi prodotti permetterebbero di raggiungere gli obiettivi prefissati dalle nuove normative come il New Green Deal. I biorbicidi sono il futuro dell'agricoltura sostenibile. Innoviamo insieme per un'agricoltura più verde. Innoviamo insieme per un'agricoltura più verde.